la rassegna stampa di fano tv oggi è giovedì 13 luglio 2023 si festeggia oggi un imperatore non è detto che i santi debbono essere soltanto dei poveri dei semplici degli umili possono essere anche delle persone importanti re imperatori persone autolocate di nobili famiglie ebbene oggi si festeggia sant'enrico secondo imperatore siamo tra il decimo e l'undicesimo secolo era figlio del re di baghiera e fu incoronato imperatore da papa benedetto ottavo sposò cunegonda e anche lei fu dichiarata santa quindi un connubio veramente molto edificante ebbe davanti a sé enrico sempre il traguardo della giustizia e del benessere dei suoi sudditi fu canonizzato da papa eugenio terzo nel 1145 questo è sant'enrico secondo e vediamo le previsioni del tempo questo tempo che ci attanaglia con il suo calore non ci sarà requie per quanto riguarda le alte temperature anche oggi condizioni meteo stabili al pomeriggio ci sarà una certa ventilazione e rinforzo dai quadranti settentrionali seguito da un generale speriamo calo termico le temperature 24 la minima 34 la massima ma la temperatura percepita sarà ancora superiore i venti sulle coste expireranno con una tensione debole da nord est mentre nell'interno debole da nord nord est vedremo insomma com'è anche il mare ma piuttosto che leggerlo sui giornali e ce lo facciamo dire dal nostro bagnino da cristiano boni dei bagni azzurra buongiorno cristiano buongiorno massimo buongiorno a tutti allora dici subito com'è il mare stamattina innanzitutto il piacere è darvi il buongiorno a tutti quanti quindi è veramente bella questa cosa grazie per averci dato questa opportunità il mare com'è stamattina leggermente mosso vi faccio vedere mi giro piano che mi hanno detto che devo girare piano ecco quindi leggermente mosso ma non si prevede nulla di particolare qualche un po di vento come detto tu che si alzerà più tardi ma sì vediamo cristiano alcune persone sulla battigia cosa fanno quelle persone qualcuno fa sport qualcuno passeggia qualcuno si gode un po il frescorre di questa mattina quindi sport in primis bisogna tenersi in forma no per la prova costume ormai superata ma vediamoci sempre in forma per l'estate dai senti vediamo anche un bello spazio tra la prima fila di ombrelloni e la battigia quindi c'è anche spazio per chi vuole stendersi magari con un asciugamano e prendere il sole si può allungare tranquillamente e quindi sì si può stare anche davanti fino a cinque metri dal mare diciamo poi il resto concessione del bagnino quindi ci si può stare sia davanti ma a cinque metri come distanza dall'acqua quindi e poi vediamo e poi vediamo dietro te e dei dei pattini delle imbarcazioni cosa sono sono cose la più importante è quella rossa è quella quella che utilizziamo per il salvataggio bravissimo bravissimo la più importante quella e poi il resto ci sono pattini cano e chiediamo come servizio alla spiaggia per diciamo divertirsi in atto un pochettino più alto qualche tutto bimbi Cristiano ieri l'assessore al turismo di Fano ha presentato una iniziativa interessante dal punto di vista promozionale ha presentato la visit card che viene data a tutti i turisti che pagano la tassa di soggiorno con la quale poi possono accedere gratuitamente a tutta una serie di servizi compreso l'autobus che da Marotta e quindi Ponte Sasso Torretto e conduce a Fano autobus gratuito questa è una bella iniziativa per collegare insomma anche coloro che soggiornano a Torretto per venire in centro storico bella molto sì infatti delle volte ci lasciano un po' indietro qua nella zona sud di Fano pur avendo come vedi come vedete è una bellissima delle bellissime spiagge è una bellissima cosa sì anche perché siamo in attesa io non voglio altare un po' di ferio però della ciclabile che verrà ultimata spero breve poi magari ne potremo parlare domattina se mi va che collegherà Semigaglia Pesaro dove poi lì sarà tutto molto più ecologico tutto molto più bello certo è la ciclo Adriatica che dovrà poi collegare tutte le marche sulla costa un'ultima un'ultima cosa cristiano a Fano è iniziata l'Affano dei Cesari ebbene di questa manifestazione c'è un eco anche a Torrette oppure la frazione non è molto coinvolta diciamo che chi frequenta Torrette non sono molte persone di Fano ma prettamente Perugia e l'entroterra quindi non conoscono benissimo quello che è la nostra cultura peccato perché io adoro mio padre ha fatto per tanti anni il gladiatore all'interno della Fano dei Cesari io non posso andarci quindi spero che venga visto anche alle persone qua in modo da poter incentivare quello che è la cosa più bella che facciamo a Fano dai la Fano dei Cesari che è meravigliosa benissimo avere un padre incentiveremo questa cosa avere un padre gladiatore credo che sia una cosa veramente per cui andare fieri grazie grazie Cristiano grazie per il tuo buongiorno questa mattina ci risentiamo domani e grazie grazie a voi un saluto a tutti una buonissima giornata e allora apriamo i giornali oggi a partire dal Corriere Adriatico e parliamo di spiagge parliamo di spiagge perché l'articolo di apertura è dedicato ad un'iniziativa che l'amministrazione comunale ha preso per fare chiarezza sulla balneabilità della costa si erano sparse voci molto preoccupanti nei giorni scorsi a causa dell'alluvione che prima di tutto ha interessato in maniera principale tutte le coste della Romagna e poi di conseguenza anche le coste pesaresi ebbene si era diffusa la voce che l'acqua fosse inquinata che i prodotti del mare non fossero commestibili perché inquinati anch'essi in realtà tutto questo non era vero e allora per fare chiarezza poi ne hanno risentiti anche gli albergatori i ristoratori e i bagnini ovviamente per fare chiarezza l'amministrazione comunale ha aperto un sito in quello del comune una pagina nel sito del comune dove ciascuno tutti tutti i cittadini possono verificare se la spiaggia che frequentano è balneabile o meno c'è il colore azzurro per le spiagge balneabili da Fossoseiore fino a Ponte Sasso e il colore rosso per quelle non balneabili e aprendo questa pagina oggi si nota che ce n'è una sola che non è balneabile ed è quella vicino alla foce del fiume Metauro un tratto di spiagge di mare piccolo ovviamente a sud della foce del fiume Metauro tutto il resto è perfettamente balneabile non ci sono elementi inquinanti non ci sono problemi quindi si può fare il bagno con in tutta sicurezza balneabilità notizie in tempo reale un sito per verificare tutte le spiagge aperto dall'assessorato l'ambiente permette di monitorare 30 punti di prelievo dell'ARPA e vediamo due articoli di cronaca sulla prima pagina del Corriere Adriatico svuotavano le slot denunciando falsi frutti falsi furti si tratta di una coppia un uomo e una donna che ha messo a segno ben cinque colpi con un bottino totale di 14 mila euro si tratta di due italiani di 48 anni lei titolare del Milky Coffee di Fano è il compagno che erano diventati irreperibili per vari mesi e poi sono stati ritrovati dagli inquirenti in Spagna che cosa facevano facevano depredavano le macchinette le slot machine prendevano i soldi e poi denunciavano il fatto come se fosse stato oggetto di un furto da parte di estrani in realtà gli inquirenti hanno capito che poi i ladri erano loro e questi sono stati denunciati ieri il giudice li ha condannati a tre anni e sei mesi con interdizione per cinque anni dai pubblici uffici l'altro fatto riguarda un caso di stalking inferno in casa per moglie e bambini condannato inflitti a un albanese due anni e due mesi di carcere sembra che avesse alzato anche le mani insomma maltrattava la moglie in presenza dei figli minorenni l'uomo patteggia la pena ieri il caso di un 46enne albanese accusato di vessazioni ed avere creato un clima di prevaricazione all'interno delle mura domestiche è stato trattato davanti al giudice l'uomo è stato riconosciuto colpevole di avere minacciato con parole grosse la moglie con espressioni tipo ti taglio la gola ti rovino ma anche ti butto dalla finestra ti ammazzo vai a fare sesso in giro veramente espressioni squalificanti il tutto poi davanti alle figlie minorenni oltre ai maltrattamenti reiterati all'uomo vengono contestate anche delle lesioni ecco perché l'uomo è stato condannato ha patteggiato due anni e due mesi permane comunque il divieto di avvicinamento alla donna ed ecco qua la iniziativa di carattere turistico che abbiamo accennato prima parlando con il bagnino dei bagni azzurra card con servizi gratuiti e sconti per chi paga la tassa di soggiorno è un'iniziativa di grande carattere promozionale che l'assessore al turismo etienne lucarelli ha organizzato insieme alle associazioni di categoria in che cosa consiste ebbene tutti coloro che soggiorneranno nel nostro territorio quindi pagheranno la tassa di soggiorno tassa di soggiorno che tra l'altro è un po aumentata rispetto all'anno scorso riceveranno in compenso una card con la quale una volta attivata per 14 o 7 giorni a seconda della tipologia della permanenza della vacanza che organizzeranno appunto nella nostra città con questa card si potrà usufruire di una serie di servizi del tutto gratuiti ma sono i servizi importanti sono i servizi perché per esempio rientra il trasporto pubblico gratuitamente si potranno usufruire i bus di adriabus da ponte sasso a fano oppure da ponte sasso a forso sei ore insomma tutte le linee urbane ed extraurbane nel territorio fanese potranno essere utilizzate gratuitamente e poi si potrà accedere nei siti archeologici gratuiti quello di sant'agostino detto gli scavi di vitruvio potrà essere fruibile già a partire da 15 giorni però ci vogliono 15 giorni per preparare il tutto poi ci saranno delle visite settimanali e poi altri servizi insomma veramente è un'iniziativa importante anche dal punto di vista economico oltre che da quello promozionale si potrà partecipare alle visite di fano marinara e poi insomma ad altre ad altri servizi che vengono che vengono così dati gratuitamente a margine della presentazione di questa iniziativa c'è stata però una polemica una polemica che riguarda l'aumento della tassa di soggiorno che non è stato ben digerito da alcuni albergatori e da alcuni promotori e quindi ci sono state delle proteste insomma è una cosa che ancora qualcuno dice che è andata andava bene qualcun altro dice di no perché è stata fatta in termini con la stagione in corso quando il pacchetto vacanze era già stato venduto e ritoccarlo non sarebbe stato possibile tant'è che alcuni operatori hanno così sono assurbiti loro l'onere della tassa di soggiorno per non farla aggravare dell'aumento della tassa di soggiorno per non farla aggravare ai loro clienti e qua c'è una denuncia a fondo pagina una denuncia per quanto riguarda lo stato dei passeggi ebbene questo palco pubblico in questi ultimi giorni in modo particolare con queste notte molto molto calde e viene oggetto di presenze di estranei non certo molto qualificanti ci sono persone che dormono all'interno dei passeggi si stendono per terra con dei matarassi oppure si stendono sulle panchine c'è del degrado e questo degrado viene denunciato con una nota anche da fratelli d'italia che nei mesi scorsi aveva organizzato un sit-in per chiedere la qualificazione per chiedere più controlli all'interno del parco dei passeggi controlli che purtroppo sembra che latitino e anche le opere di miglioria le opere di tutela di questo oasi di verde all'interno della città ancora sembra che non ci siano veniamo ora alle altre notizie siamo ancora a Fano dove vediamo che la rotatoria di Fenile sta per essere conclusa ormai siamo al rush finale già migliora comunque la viabilità questa rotatoria posta all'ingresso tra la provinciale per Carignano e la viabilità che penetra nella frazione già questa rotatoria riduce la velocità dei veicoli che percorrano la provinciale ed è l'assessore ai lavori pubblici Barbara Brunori che ipotizza altri 20 giorni di lavoro per concludere il tutto è una infrastruttura che è stata molto richiesta dai residenti di Fenile i quali erano preoccupati dal ripetersi di incidenti in questo punto critico della viabilità della loro frazione ed ora passiamo a terre roveresche il bilancio di Ferronia un attivo di 4.290 euro ebbene il comitato contro il biodigestore chiede a Fano di valutare questi dati sono dati su cui forse non si è posta la dovuta attenzione è una tribolata vicenda quella del biodigestore che Ferronia vorrebbe costruire a barchi il comitato a difesa del territorio ovviamente contrario alla realizzazione dell'impianto ha notato certe cose che dovrebbero essere studiate con molta più attenzione a cominciare dalla annunciata e mancata partecipazione all'asta di giugno del Ministero dell'Ambiente Ferronia non figura tra i soggetti idonei esclusi che hanno rinunciato per la realizzazione dell'impianto previsto a barchi dopo aver sottolineato che avrebbe comunque proceduto anche da sola all'operazione potendo contare sulle risorse necessarie questo è un fatto che va chiarito secondo appunto il comitato poi ci sono anche altre eccezioni che l'articolo evidenzia Al Furlo gli studenti dell'Università del Politecnico delle Marche l'Università di Ancona hanno concluso un monitoraggio importante per quanto riguarda la vegetazione di questa oase ambientale di grande rilevanza di grande importanza per la tutela dell'habitat che abbiamo nella nostra provincia e rispetto all'analisi compiuta dal 2005 sono stati rilevate diversi cambiamenti diverse variazioni ebbene tra questi c'è l'aumento delle superfici dei querceti aumentano le querce altre tipologie sono in evoluzione come i ginepreti aumentati da un lato nel caso degli arbusti e del ginepro rosso ma diminuiti dall'altro per gli arbusti a dominanza di ginepro comune ebbene sono dati questi che forse interesseranno soltanto gli ambientalisti o i botanici ma in realtà sono importanti perché il Furlo così nella sua completezza ambientale costituisce veramente un paesaggio da godere, da visitare, da passarci delle vacanze perché poi la fauna, la flora danno veramente il contesto, una cornice meravigliosa a questo sito di grande valore ambientale passiamo a Senigallia passiamo a Senigallia e vediamo la vicenda drammatica di una blogger si tratta di Cristina Landi dicevano sinusite, era un tumore la psicologa blogger muore a 42 anni Cristina Landi aveva raccontato la sua malattia condivido questa esperienza come un dono aveva detto di solito si ha paura di parlare di queste malattie atroci che purtroppo lasciano poco scampo alle persone che le contraggono ebbene Cristina Landi aveva avuto il coraggio di estragnarsi da se stessa di raccontare come si racconta la malattia di un'altra persona in realtà era lei stessa che la soffriva è morta Cristina Landi a causa della sua malattia aveva 43 anni nata ad Ostras, si era trasferita a Padova dove si era laureata in psicologia era stata anche ricercatrice e insegnante alla scuola primaria il 31 gennaio 2021 mentre a Udene venivano consegnati diplomi del master in meditazione e neuroscienze era stata ricoverata a Torrette per un glioblastoma un tumore al cervello di massima aggressività e qui invece di disperarsi aveva cominciato a raccontare agli altri la sua malattia aveva sperimentato la tecnica dell'autoanalisi del distacco descritto da quello che a lei stessa capitava ebbene alla fine però purtroppo ha dovuto cedere i suoi funerali si terranno oggi alle 18.30 nella Basilica di Santa Croce a Senigaglia lascia il padre Bruno Landi ex assessore la madre Giancarla Raffaelli ex preside e il fratello Alessandro vediamo ora un articolo che è nella pagina regionale del Corriere Adriatico indossate vestiti leggeri e restate sempre idratati consigli del dottore Antonicelli primario del RICA agli anziani e proprio Fano TV nella serata di ieri ha organizzato veramente un servizio per indurre appunto gli anziani a difendersi dal freddo ora apriamo il resto del Carlino turismo paghi la tassa e ottieni la card il comune presenta il servizio ma è bagarre per quanto riguarda l'aumento della tassa di soggiorno e poi un cartello apparso nel stabilimento di imbottigliamento alle terme di Carignano aveva sollevato le preoccupazioni del comitato che lotta per la realizzazione delle nuove terme in realtà questo stabilimento non appartiene al gruppo Romani appartiene a un'altra società che intende appunto venderlo e quindi non ci sono problemi per quanto riguarda la realizzazione delle terme in quest'altro articolo invece si parla dell'affano dei Cesari perché ieri sera l'evento è stato inaugurato con grande suggestione davanti all'arco d'Augusto con l'accensione del fuoco sacro oggi tutta la giornata dedicata ai bambini con tanti giochi e poi la corsa del bighete intanto la città si trasforma perché nasce il mercato romano nasce la follonica nasce la domus insomma la città ritorna indietro di duemila anni marineria la storia fanese finisce nel museo di Pesaro con un poderoso lavoro di ricerca è stata ricostruita l'identità marittima cittadina peccato però che tutto il materiale raccolto sarà custodito a Villa Mollaroni a Pesaro bissà forse a Fano non c'erano le strutture idonee per costruire, per custodire queste cose eppure si parla da tempo di un museo della marineria Viale Battisti attende i lavori di ristrutturazione sappiamo che questi vengono dilazionati a settembre ma intanto i cittadini incalzano perché lo stato delle strade è veramente pietose e poi vediamo in quest'altro articolo invece che in commissione non è passato la variante che dovrebbe consentire la realizzazione di un nuovo monastero a Montegiove se ne riparlerà in consiglio comunale il 17 luglio e vedremo se i frati trappisti avranno il loro monastero passiamo ad Urbino polo sportivo è lucido così rinasce lo stadio l'assessore Marianna Vetri dice il comune per il campo ha messo sul piatto circa 700.000 euro 690 il lavoro più importante è quello della pista d'atletica quindi un nuovo campo sportivo per la città ducale vediamo anche quello che si fa a Marotta a Marotta invece si investe nel campus in corso 200.000 euro di interventi lavori per sostituire i pavimenti e rintinteggiare le aule ambienti completamente rinnovati quello che evidenzia il sindaco Barbieri con tutti i suoi assessori un altro articolo importante è quello che riguarda Fossombrone a Fossombrone alvia l'intervento per realizzare il murale se sul giro il vice sindaco Carabilli annuncia nei prossimi giorni l'artista Andrea Larocca inizierà l'opera e questa era l'ultima notizia Massimo Foghetti vi saluta e vi dà appuntamento a domani alle ore 7 grazie per l'ascolto a risentirci grazie per l'ascolto